Le piagge di stanotte hanno fatto veramente un disastro a casa sua? Sì, qui è stata veramente una cosa drammatica perché ad un certo punto non si distingueva più la roggia dall'acqua. Purtroppo non è la prima volta, temo che non sia l'ultima perché mi spiace dirlo ma il comune di Rivarolo, anche se io l'avevo sollecitato tempo fa, proprio sinceramente non ha mostrato la minima sensibilità su questo. Sarà perché qui siamo gli unici ad avere questo problema in quanto poi la roggia qui sparisce e qui sopra ci sono dei campi e per cui capisco che uno solo che si lamenta ha ragione, secondo me, non pesa. Però la questione c'è, voi vedete qui un macello, qualcosa secondo me si può fare, non lo so perché io non sono un tecnico, ma secondo me qualcosa si può fare. Per esempio stanotte, questo lo sanno tutti qua che abitano a Pasquaro, ieri sera dalle 7 di sera, 7-8 di sera, già c'erano le roggie piene perché dovevano bagnare la campagna. Va benissimo, non è un problema, anzi ci mancherebbe. Però poi a un certo punto la cosa va anche un pochettino ingestita perché un temporalone può capitare. Ne sono capitati, non è il primo che accade. Ma se tu sai che stai riempiendo le roggie, vedi che sta arrivando giù qualche cosa di importante. Le previsioni del tempo ormai non è più quello che era abdomante che andava a cercare l'acqua. Adesso sono abbastanza attendibili, per cui qualche cosa si può fare. Qui sopra, ad esempio, mi pare che ci sia una chiusa, non la posso gestire io, però se fosse stata calata la chiusa, molto probabilmente le acque sarebbero andate nelle campagne e non sarebbe venuto tutto qua. Che vi devo dire? Io spero che qualcuno prenda in mano la questione per gestirla sinceramente un po' meglio. perché qui è una cosa che non può andare bene. Questa è già la seconda volta che io mi ricordo. Non so, sinceramente in comune sono andato, non so a chi rivolgermi. Non so, non sono andato in comune, anche Roberto è andato in comune. Insomma, è una situazione che poteva essere benissimo gestita e controllata. Perché comunque le previsioni ormai non sbagliano più, i tecnici in comune li hanno, potevano benissimo mandare qualcuno per controllare, per contenere comunque i danni. Ma tutte le volte che avete fatto le segnalazioni cosa vi hanno risposto? Io sono andato su di persona, un paio di volte, mi hanno detto, eh qui sì effettivamente, no lo riconoscono il problema, punto. Sì effettivamente è vero, però poi che facciamo? Anche perché i danni non glieli pagano? E i danni non li pagano perché poi si sa, il comune manda le acque, sono acque reflui e cosa sono, le acque le mandano al comune, ho capito. Però i provvedimenti non li devo prendere io, comunque bisogna risolvere la stessa situazione. Sì anche la pericolosità perché comunque c'è anche una strada, quindi anche pericolosa per la viabilità. No, no, qui stanotte c'erano i bidoni della Tecnoservice, sono stati spazzati, qui c'era alto così d'acqua, che arrivava di qua, che arrivava di là. Dalla roggia, dappertutto, della roggia che straripava, dal flusso dell'acqua dalla strada lì, dappertutto. Quindi è stata una cosa assolutamente incontrollabile, sono anche intervenuti i vigili del fuoco, però ormai il più grosso era passato. Comunque da dentro casa a me l'acqua non ha tolta nessuno. Io ho la casa lagata dentro e ce la siamo dovuta togliere noi fino alle 6-7 del mattino. Che devo dire? Non so che altro aggiungere. Che devo dire che l'ha provata? La parina delle farine? Sì, va bene. La nostra farina la ha provata. Grazie. 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 Grazie.